Operazione Sport Amiche e amici di Operazione Sport ben ritrovati a questa nuova puntata, nuovo appuntamento dedicato al calcio dilettantistico quest'oggi ci soffermeremo su eccellenza e promozione, poi avremo modo magari di dare anche un'occhiata alla prima categoria girone A oggi parleremo in particolare di eccellenza e di Castrovillari, di promozione e del duello al vertice tra l'Olimpico Rossanese, il Corigliano e la SD Rossanese per il Castrovillari è tornato a trovarci quest'anno in maglia rosso-nera Michele e Canale che salutiamo Buonasera Michele Ciao, buonasera E per invece l'ASD Rossanese, quest'anno il tecnico della nostra vecchia conoscenza, ossia il giovane allenatore Luca Loisi Ciao Luca Ciao, buonasera a tutti Partiamo proprio dall'ultimo weekend e dai risultati maturati Castrovillari in eccellenza che è sempre più intenzionato alla risalita in gradatoria seppur nell'ultimo turno ha raccolto solo un punto in quel di Cutro con un gol proprio di Michele però è un periodo Michele per voi tutto sommato positivo perché siete riusciti a risalire la zona playoff non è poi così lontana e soprattutto in un campionato molto equilibrato da quello che riusciamo a vedere rispetto alle altre stagioni ovviamente Sì sì, veniamo da diversi risultati utili nonostante c'è il rammarico per qualche punto lasciato per strada proprio come quello di domenica dopo aver creato diverse occasioni da gol non concretizzate e comunque l'intento della società è quello di raggiungere il maggior punteggio fino al mercato di dicembre e poi puntellare l'organico in modo da giocarsi il campionato o comunque i playoff comunque fare un campionato di vertice l'importante è però in queste prossime 3-4 gare non lasciare punti come è capitato a Cutro Cosa è mancato al Castrovillari in queste prime 10 giornate Michele? Ma guarda, una cosa che ha influito molto a mio avviso è stato il fatto che comunque è la squadra che è partita a più ritardo di tutti perché ha iniziato la preparazione il 17 di agosto molti di noi ci siamo aggregati dopo come me, altri ancora dopo a settembre quindi la rossa si è completata veramente per la prima di campionato anzi poi sono arrivate altre persone comunque ci sono state delle mancanze come quello che si ripete sempre una punta centrale con le caratteristiche della punta centrale perché ci stanno adattando diversi giocatori che non hanno quelle caratteristiche e questo diciamo è quello che è potuto mancare fino ad ora quindi importante sarà il mercato e continuare comunque a giocare come abbiamo iniziato a fare da recentemente perché comunque sulle prime partite si è visto il fatto della mancanza di preparazione e comunque della squadra che si conosceva eccetera Mister Carnevale ha fatto bene nelle passate annate proprio in eccellenza con lo Scalea dopo una parentesi nel settore giovanile al Rende si è rimesso in gioco per lui è anche un doppio impegno se vogliamo perché è un po' un castrovillarese d'adozione ma è un allenatore che alla distanza poi proietta le proprie squadre verso gli obiettivi che più contano Sì 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 già infatti con lo Scalea aveva fatto un grande campionato e adesso l'intento è quello di ripetersi e comunque cercare di fare ancora meglio qui a Castrovillari noi lavoriamo tanto durante la settimana e cerchiamo con il Mister di arrivare alla domenica sapendo, cercando di fare le giocate quello che proviamo è comunque fare un campionato di vertice fare un campionato di quello che è l'intento della squadra A Cutro che gara è stata? A Cutro è stata una gara molto maschia inizialmente anche perché il campo non permetteva molto di giocare essendo un campo piccolo, essendo un campo di erba sì però con alcune parti dove non si poteva giocare molto bene la palla però fondamentalmente siamo riusciti a creare molto abbiamo subito un gol in partenza abbiamo pareggiato poco tempo dopo e il rammarico c'è proprio perché abbiamo avuto sì loro hanno sbagliato il rigore che è stato parato da Caputo però noi oltre al rigore poi siamo stati noi quelli che hanno avuto più occasioni abbiamo avuto tre occasioni nitide a tu per tu col portiere che non abbiamo finalizzato e dall'eccellenza dove torneremo tra poco e noi ricordiamo a proposito prima di passare alla promozione che anche l'Acri è in netta risalite doppia vittoria consecutiva per mister Mancini un tecnico che non ha bisogno di certo di presentazione un'Acri di cui parleremo poi nelle prossime puntate che continua a viaggiare un po' come il Castrovillari verso le zone più importanti della classifica ricordando anche che questo campionato al di là delle favorite sulla carta Siderno e Locri può aprirsi ad altri scenari poi magari ascolteremo sia Michele che Luca su questo particolare aspetto promozione dove non cambia quasi nulla nella parte alta della graduatoria anzi non cambia nulla se non l'ascesa continua delle squadre delle prime tre della classe e tra queste l'ASD rossanese che affianca in seconda piazza proprio il Corigliano Luca dieci giornate anche per voi disputate siete al passo con i risultati maturati e con anche le altre dirette antagoniste una ASD rossanese che comunque con forse maggiore tranquillità riesce a ben esprimersi fino a questo punto Sì, noi non abbiamo assillo, non abbiamo pressioni perché il nostro campionato è stato già vinto noi siamo stati ripescati, eravamo in prima categoria quindi era nato tutto un progetto che veniva dalla prima categoria è arrivato questo ripescaggio e quindi abbiamo dovuto un po' cambiare alcune cose e stiamo vivendo questo momento con molta tranquillità abbiamo fatto appunto dieci partite, otto vittorie e due pareggi non abbiamo niente da recriminare non abbiamo niente da aggiungere su questo stiamo andando al passo delle grandi sappiamo che abbiamo una rosa competitiva per stare il più possibile nelle parti alte della classifica sappiamo anche che ci sono delle rose molto più attrezzate di noi come il Corigliano e l'Olympic stesse però noi cerchiamo di fare più punti possibile anche noi stiamo aspettando di arrivare al mercato e poi tireremo le somme da lì in poi Che gara è stata invece l'ultima vinta comunque a mani basse se vogliamo contro una giovane Promosport? Sì, è stata una partita abbastanza tranquilla è stata messa subito in discesa grazie alla doppietta di Alessandro Riolo e poi da lì è stata un'ordinaria amministrazione la Promosport era una squadra giovane però rispetto a tutte le altre squadre che ho visto finora è venuta a giocare tranquillamente a viso aperto forse un po' ha pagato anche il fatto che è venuto con tranquillità a giocare perché quando poi si hanno degli uomini di esperienza finisce per un risultato un po' largo però tutto sommato è stata una partita abbastanza tranquilla noi abbiamo come obiettivo fondamentale oltre a quello di fare più punti possibili se nelle parti alte della classifica e di creare soprattutto un settore giovanile e fare uscire più giovani possibili sia dalla nostra società ma anche in generale dal nostro territorio ogni domenica io mi prefisso sempre l'obiettivo di far esordire un under in più di giocare con qualche under in più infatti da qui non possiamo dire nulla abbiamo giocato domenica abbiamo fatto esordire un 2002 come portiere settimana scorsa a San Vila abbiamo fatto giocare un 2001 sto giocando con un 2000 titolare uno che è esordito settimana scorsa a San Lucido quindi c'è entusiasmo stiamo lavorando bene speriamo di continuare così il mondo under da cui tu provieni perché lì ti sei fatto le ossa che hanno la fortuna di avere anche dei giocatori di esperienza che sono un po' i cardini di questa tua squadra uno su tutti lo stesso Sifonetti citavi Riolo aggiungiamo Amoruso sono un po' loro la spina dorsale di questa squadra se vogliamo abbiamo l'esperienza giusta in ogni punto del campo perché abbiamo anche Antonio Carrozza ormai Antonio Carrozza si può dire che è un giocatore di esperienza Amoruso con Giuseppe Sifonetti in centro campo in attacco abbiamo anche Campana che è un veterano di queste categorie e Riolo quindi sono ben tutelati i giovani in campo e possono solo crescere con questi giocatori a proposito di eccellenza tornando a Michele Canale tu hai giocato lo scorso anno proprio con il Corigliano anche se poi è sfumata quella salvezza anche per questioni se vogliamo di spareggi e di burocrazia mettiamola così per essere un po' più eleganti ma che differenza c'è tra il campionato dello scorso anno e quello di questa stagione perché mancano proprio le ammazza campionati come isola e cittanovese Michele guarda l'hai appena detto tu secondo me la vera differenza è che manca l'ammazza campionato come l'isola e anche la cittanovese nonostante il Locri sia una piccola cittanovese dello scorso anno perché ha molti giocatori di quella rosa però ancora non sta prendendo il passo che magari ha preso la scorsa stagione la cittanovese quindi proprio per questo a mio avviso è un campionato più equilibrato anche nelle parti basse perché a differenza dell'anno scorso che già si era iniziato a delineare quali erano le squadre che lottavano per la salvezza quest'anno ancora la classifica è molto corta quindi non si sa ancora quali saranno le squadre a parte magari la Luziese che si sta un po' staccando le altre sono tutte lì lì A proposito poi di eccellenza faremo una domanda anche in merito alla passata stagione ad entrambi ma a proposito di Corigliano vittoria se vogliamo facile tra virgolette perché comunque il Corigliano ha vinto per 4 a 0 grazie alla doppietta di Varriale al gol dell'ander Cimmino e al ritorno in campo e al ritorno al gol di Bomber Piemontese un successo che permette al Corigliano soprattutto di di crescere sotto il punto di vista della condizione perché la squadra almeno da quello che si è visto in campo ha dato ampie dimostrazioni di crescita psicofisica una condizione che magari mancava fino a poco tempo fa e che adesso invece acquisisce sempre più a corredo del successo del Corigliano ascoltiamo proprio quelle che sono le considerazioni sia di Rinaldi che di Varriale e poi ci ritroveremo qui in studio Rinaldi avversarie dirette continuano a vincere però questo duello abbiamo già detto sarà così fino alla fine ma noi sappiamo noi pensiamo a noi partita dopo partita poi quando sarà la fine tireremo le somme sappiamo che adesso dobbiamo inseguire nel momento in cui ci daranno la possibilità dobbiamo farci trovare pronti poi magari ci andremo a giocare tutto lì ritorno a Rossano senza problemi Varriale schierato dall'inizio risposto nel migliore dei modi a suon di gol con una doppietta di più forse non si poteva chiedere no beh questo momento l'aspettavo ben da 5-6 forse anche 7 partite finalmente è arrivato il mister mi ha dato questa occasione la cosa importante è che mi sono fatto trovare pronto un Corigliano dicevamo poc'anzi anche con grossi con una grossa crescita esponenziale che di questo passo può davvero far paura se vogliamo perché ha un rendimento davvero importante a noi siamo una squadra comunque non bisogna nascondersi di giocatori importanti al di là dei fatti i numeri ci sono dei nomi importanti quindi questa squadra deve continuare su questo passo sicuramente senza presunzione perché sono campionati che appena molli puoi trovare qualche scherzetto diciamo è un Corigliano che ritornerà a lavorare anche perché la classifica non è cambiata nella parte alta e c'è da affrontare una nuova trasferta ma le partite vanno affrontate una alla volta la classifica noi la guarderemo solo a dicembre per vedere a che punto siamo e poi alla fine si riguarderà alla fine del campionato noi ce la metteremo tutta guardiamo solo in casa nostra è normale che si spera che chi c'è avanti farà un passo falso ma la cosa importante è guardare in casa nostra perché questo Corigliano si può far male solo da solo torniamo in studio ribadendo appunto questo successo proprio arrivato al Mimmo Rende di Castrovillari scenario ormai diciamo di famiglia per Michele Canale il rettangolo di gioco di Castrovillari che ha ospitato questa ennesima gara casalinga del Corigliano che ovviamente è ancora in attesa del proprio impianto dove è in corso il restyling per l'impianto del nuovo rettangolo di gioco del città di Corigliano che appunto da quello che ci giunge come notizia corre spedito verso il rifacimento e la conclusione dei lavori chissà che prima di Natale non si possa tornare a giocare per la gioia di società giocatori e tifosi proprio presso il campo di Contrada a Brillia Luca anche per ciò che vi riguarda il problema stadio sussiste perché anche nel vostro caso non lo Stefano Rizio è ancora interessato dai lavori sia per voi che per l'Olimpico rossanese è un po' un disagio anche se giocate poi nella vicina Mirto il disagio viene più che altro per il campo di allenamento perché usiamo due strutture diverse usiamo una struttura in terra battuta e una in erba e giochiamo in una terza struttura quindi questo è il grande disagio che purtroppo stiamo avendo speriamo che anche lì i lavori si concludano il più presto possibile così riusciamo quantomeno a collocarci in una struttura nostra poi per quanto riguarda se gli allenamenti verranno fatti no però questo è un grande un grande disagio spostarci ogni giorno perché noi ogni giorno abbiamo dei giorni dove ci alleniamo in una struttura e giorni dove ci alleniamo in un'altra noi riusciamo a fare amichevoli perché purtroppo i campi non sono adatti per fare amichevoli ci dovremmo spostare quindi con gente che viene da fuori è tutto più complicato quindi speriamo che finisca il prima possibile guardiamo al prossimo turno invece per ciò che riguarda l'SD rossaese che gara vi attende allora domenica siamo a Roggiano troveremo una una buona squadra una squadra che è lì su con noi che sta facendo bene che gioca bene a calcio perché ho visto qualche immagine gioca veramente bene a calcio poi c'è gente che non c'è bisogno di presentazione uno su tutti i Sarli ma lo stesso Cresci Bene Scarnato Crespino quindi è una squadra che non ha bisogno di presentazione squadra molto buona per questa categoria quindi abbiamo questo turno importante questo turno difficile sarà uno dei primi scontri che andremo ad affrontare noi da domani inizieremo ad allenarci da domani inizieremo a preparare questa trasferta delicata e poi sarà il campo a dire la sua gli scontri diretti che iniziano ad arrivare un po' per tutte le compagini non solo per l'SD rossanese ma anche per Corigliano e Olimpico rossanese sarà lo stesso cammino secondo calendario ovviamente di turno in turno poi scopriremo anche quelle che saranno un po' i big match in questo caso proprio si tratta di un big match Corigliano che invece giocherà contro il Sallucido non sappiamo dove visto che anche il Sallucido ha problemi di strutture e scopriremo poi in settimana dove si giocherà se Acqua Pesa Fuscaldo a Paola e se la gara sarà giocata domenica o addirittura di sabato Michele si diceva del campionato d'eccellenza di un campionato equilibrato di queste favorite e di altre compagini come il Castrovillari e io citavo l'acri del neotecnico mister Mancini che possono di certo scalare la classifica ma bastano degli innesti per così iniziare a entrare nei giochi di promozione oppure serve anche altro così come si dice sempre l'amalgama del gruppo il lavoro e tanti altri elementi che sembrano dettagli ma poi non lo sono guarda l'amalgama del gruppo sta già uscendo a mio avviso negli ultimi tempi negli ultimi partite e poi oltre agli innesti penso che serva poco perché comunque la piazza di Castrovillari si presenta da solo noi abbiamo un tifo che ci segue ovunque in trasferte in casa è davvero numeroso e questa è una grande mano è una piazza così calorosa è giusto che meriti dei risultati importanti quindi penso che con degli innesti possiamo davvero dire la nostra in questo campionato nonostante squadre importanti ripetiamo equilibrato ma con squadre importanti stesso l'acri che adesso col cambio di allenatore sta ritornando si è rimessa in marcia accennare ai tifosi prima si è rimasto nei cuori dei tifosi anche del Corigliano c'è un piccolo rammarico per come è andata la stagione Michele lo scorso anno ovviamente ma assolutamente vedere esserci salvati sul campo dopo diversi problemi vincere un play out in casa essere tranquilli di essere salvi e poi sapere che bisognava giocare un ulteriore spareggio nonostante ciò andare fuori casa essere lì per vincerlo anche e poi perderlo è stato davvero un peccato è anche un dispiacere per i tifosi di Corigliano che davvero ci hanno seguito fino all'ultimo fino all'ultimo momento poi è anche un peccato il fatto che il Corigliano non sia stato ripescato a mio avviso è una cosa assurda dato che abbiamo fatto un ulteriore spareggio perché il Roccella era retrocesso il Roccella viene ripescato e il Corigliano no è davvero una cosa perché noi c'eravamo salvati sul campo comunque questo è il calcio ci sono anche questi episodi la lotta di quest'anno invece come la vedi tra tre squadre attrezzatissime senza dimenticare poi magari il Roggiano e altre compagini ma guarda io dico che quest'anno per quel poco che ho potuto vedere penso che sia il cambiotto di promozione più bello di sempre o se non degli ultimi anni perché comunque ci sono Corigliano e l'Olimpico rossanese che hanno degli organici formidabili a mio avviso poi c'è la squadra di Mister Luca che con dei giocatori di esperienza e con i giusti giovani come hanno costruito la squadra sta facendo dei risultati strepitosi e sta sempre lì complimenti a loro complimenti a lui per i risultati che stanno ottenendo e secondo me come ha detto prima già hanno fatto davvero delle cose importanti in confronto alle squadre che ci sono poi stesso il Roggiano che noi abbiamo affrontato dinamichevole ho visto che è una squadra di giovani giocatori con esperienza che gioca davvero bene secondo me è davvero davvero un bel campionato e sarà combattuto fino all'ultimo l'ultima battuta proprio con Luca Aloisi che lo scorso anno insieme a Michele faceva parte proprio dello staff del Corigliano Luca che abbiamo accennato per quanto riguarda il mondo Juniores non ci siamo dimenticati che anche quest'anno partecipate al campionato Juniores quindi c'è quell'occhio di riguardo da parte della società tua e non solo degli addetti proprio a curare nel miglior modo possibile la squadra Juniores per tirare fuori più elementi possibili questo è un pregio ma soprattutto un lavoro in chiave futura sì la società ha investito molto e ha lavorato molto per far sì che riuscivamo a fare una Juniores competitiva ma siamo anche iscritti al campionato allievi quindi una società che era partita diciamo dall'anno zero che non aveva settore giovanile previa dalla prima categoria si ritrova ad affrontare un campionato di allievi e di Juniores la Juniores è prima in classifica ha fatto due partite due vittorie domani giocherà Cassano quindi si punta anche lì a vincere si punta lì a vincere il campionato e ad andare più avanti possibile poi io a me piace il campionato Juniores e quindi seguo i ragazzi mi piace quando un ragazzo dalla Juniores arriva alla prima squadra e viceversa quindi hanno hanno cioè hanno me che io con me hanno le porte aperte dappertutto i ragazzi e ovviamente vedremo sicuramente sarà una squadra che farà bene quella anche quella Juniores e quella degli allievi nel corso delle proprie competizioni noi ovviamente prima di chiudere vi ricordiamo che il marino di Schiavone invece continua la sua la sua marcia in testa alla giornata di prima categoria poi di prima categoria parliamo con altri ospiti nei nostri prossimi appuntamenti adesso invece ci fermiamo qui ringraziamo però proprio i nostri ospiti per il Castrovillari Michele Canale grazie e in bocca al lupo per il futuro Crepi un saluto a tutti e un grazie a te Cristian e ovviamente ringraziamo anche Luca Loisi in bocca al lupo anche a voi e a presto Crepi e grazie a tutti noi ringraziamo invece tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento per la prossima settimana a presto Operazione Sport in collaborazione con Grazie per la visione!